Si vede che sei in mananza, non lo so, un po' dalla carna al giorno. Poi zitta, se no ti salta. Ce la puoi fare, vai, dai, che cerco il nome. Ce la fai, ce la fai, ce la puoi fare. Intanto io penso il pezzo da fare. Non fare schiavo per me lo caro, grazie. Sei una nota logofoica? Sì, sì. Ne conosco qui. Beh, un attore non potrebbe essere una nota logofoica. No, 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 io lo stavo tantissimo. Sì, come tutti gli attori. Beh, ma dovrei recitare perché noi facciamo una pausa. Una pausa già l'ha fatta lei ed è già in tregua. Mancano qua da trenta abbondantissimi secondi. Sono tanti, c'è una nota logofoica. Avvicinatevi signora, avvicinatevi. C'è una esibizione in corso, si chiama Il Silenzio. Quando lei finirà questa esibizione io in cambio farò un pezzo del mio spettacolo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Applauso, applauso per te. Hai fatto il silenzio e vedi che non è da poco. Ho apprezzato molto. Err Rece individuals? Ciao adoramco questa.